La versione al caramello e mandarino proposta dallo chef Nicola Zulli della pluridecorata pizzeria Il Coccodrillo di Rocca San Giovanni trionfa nell'edizione 2022 del Festival del Panettone Artigianale Abruzzese andato in scena nei locali del Baratè nelle Dune di Silvi Marina con 10 elaborati selezionati su tutto il territorio regionale. La giuria presieduta dal vice sindaco di Silvi Fabrizio Vallescura e dal maestro di cucina Santino Strizzi ha avuto il suo bel da fare per valutare minuziosamente dei preparati di pregevole fattura richiesti a gran voce anche da fuori regione. Per il migliore equilibrio dei sapori la commissione ha attribuito il premio al panettone mango e pesca di Simone Almonti della Casereccia di Penne mentre per la migliore presentazione il premio è andato a Lanciano con la versione mela e cannella della pasticceria Il Pasticcino di Francesco Maccione. Si sono distinti con il premio della giuria Angelo Chiaveroli e con il premio della critica Pasquale Paciglio rispettivamente Cristiana di Sabatino del locale Passe Fermati di Montefino con il tradizionale alle uvette candite e la pizzeria Carpe Diem di Montesilvano con il panettone artigianale al cioccolato di Emilio Brighigna. Particolarmente apprezzati per la lievitazione e la qualità dei prodotti utilizzati i panettoni artigianali del mercato del pane della pasticceria Dante di Montesilvano, la gelateria Coppa d'Edora di San Vito, la pasticceria Gerri di Pescara e Agnone e la pasticceria internazionale Palazzone di Sulmona. Tutti gli elaborati sono stati poi accompagnati dai vini appositamente scelti per l'occasione firmati Barone di Valforte e di Silvi. Fuori gara i presenti hanno potuto gustare e ammirare il semi integrale con amarena candita e cioccolato fondente dell'ex vincitrice del concorso Katia Giancola e Liturcinil della campionezza italiana della cucina per casalinghe Maria Angelucci. Ad accompagnare la manifestazione l'inconfondibile musica del polistrumentista di Silvi Andrea Pelusi, flautista e fisarmonicista conosciuto a livello nazionale. È stata una bella iniziativa che ripeteremo sicuramente in futuro, ha detto alla fine la promotrice dell'evento Katia Giancola. I panettoni erano tutti molto buoni e davvero all'altezza della situazione. Festival del panettone artigianale abruzzese al Caffè Atene e Le Dune di Silvi Marina, con noi in giuria il vice sindaco Fabrizio Vallescura. Ha vinto la pizzeria Il Coccodrillo di Rocca San Giovanni con il panettone ai tre cioccolati e con la versione fatta con caramello e mandarino. Ma cosa ha avuto, secondo lei, di più rispetto agli altri panettoni? Guarda, io ho potuto constatare alla leggerezza un'ottima levietazione e poi io purtroppo sono patito del caramello, quindi è stato uno dei panettoni al quale ho dato il mio voto più alto, anche se ce ne sono stati altri. Ecco, dieci elaborati in gara. Che gara è stata, secondo lei, in tutta sincerità? Per noi molto difficile da valutare. Veramente i prodotti erano tutti di altissima qualità e veramente abbiamo riscoperto questo sapore che stava andando un po' perdendosi per i vari marchi commerciali. Quindi sono stato molto felice di essere stato qui e ti ringrazio dell'invito. Una manifestazione unica per un prodotto, il panettone artigianale, che acquista sempre più valore. I nostri professionisti addirittura ricevono prenotazioni da fuori regione. Che cosa significa questo? Che siamo stufi di assaggiare i panettoni industriali proposti dalle grandi catene di distribuzione? Esattamente. Adesso si va sempre verso più la qualità del prodotto e la gente vuole solo questo. Non vuole più risparmiare, quel poco che può fare ne prende uno invece di due, ma vuole un prodotto di alta qualità. Ad accompagnare questi panettoni i fantastici vini firmati Barone di Valforte, azienda vitivinicola di Silvi, che lei conosce molto bene. Ha dato questo vino davvero un valore aggiunto alla manifestazione? Assolutamente sì e questo mi ingoriosisce avere un'azienda del genere sul territorio che fa questi prodotti di qualità. È un modo anche per richiamare gente a Silvi. Silvi, la perla dell'Adriatico, località turistica per Antonomasia. Queste manifestazioni gastronomiche servono sempre per attirare più gente in una bella realtà come Silvi. Assolutamente sì. Oggi come oggi si va nei luoghi dove si mangia bene, si beve bene e si sta bene con la nostra magnifica spiaggia. Praticamente ultima manifestazione dell'anno. Che 2022 è stato per Silvi? Lo chiediamo al vice sindaco, braccio destro della giunta guidata dal primo cittadino Andrea Scordella. Al quale dirò che si è persa una bellissima serata. È stata una bellissima estate. Abbiamo lavorato tantissimo. Peccato un po' di problemi con i costi energetici che sono aumentati. Però anch'io, avendo un ristorante, avendo un'azienda familiare, siamo molto contenti di quello che è stato Silvi nel 2022. Quali sono gli auguri da formulare, vice sindaco Vallescura, a tutti i silvaroli ma soprattutto a tutti gli abruzzesi? Che Silvi continui così nel suo percorso di ricrescita e quindi una buona estate a tutti. Walter Meale, presidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi, oggi in giuria a Silvi per il festival del panettone artigianale. Intanto si è divertito? Assolutamente sì. Veramente sto ridendo anche senza battuta, come si dice. Poi io sono nato a Monza e quindi comunque la tradizione del panettone ce l'ho sempre avuta, anche a casa. E quindi stasera veramente mi è piaciuto tantissimo partecipare e ti ringrazio per l'invito che mi hai dato questa possibilità, opportunità di venire. Un esperto lei, ma tecnicamente che gara è stata? Allora, intanto i prodotti in toto, i dieci prodotti che sono stati presentati, avevano una qualità eccelsa. Chiaro che poi abbiamo dovuto fare una piccola selezione all'interno e vedere proprio le piccolezze che potevano distinguere l'uno dall'altro. Io sicuramente i profumi, ecco, i profumi tantissimo, anche dei prodotti che c'erano, infatti la prima cosa, l'ho avvicinato al naso proprio per sentire il profumo. Poi l'ho anche toccato con mano perché volevo sentire proprio la sofficità, la consistenza della pasta e della lievitazione. Infine poi il gusto, perché comunque era importante anche sapere anche la combinazione dei vari prodotti che hanno caratterizzato ciascun prodotto. E come diceva il maestro, ovviamente l'ultimo arrivato sicuramente di gran lunga superiore a qualsiasi prodotto industriale che possiamo trovare ovviamente in circolazione. Quindi il mio veramente è un invito a tutti quanti, cittadini eccetera, di consumare prodotti locali, artigianali, perché oltre al sacrificio e all'amore che gli artigiani mettono nella produzione di questi prodotti di nicchia, ma veramente è meglio consumarne uno che è ma buono, che veramente sente il sapore del panettone del Natale, piuttosto che consumarne 5, 6, 10 quando però senti che è una pasta, è una cosa proprio del tutto industriale. Riepilogando, primo posto per il coccodrillo di Rocca San Giovanni, secondo posto per la casereccia di Penne, terzo posto per il pasticcino di Lanciano. Risultato giusto a suo avviso? Assolutamente sì, io infatti avevo dato il massimo del voto proprio al coccodrillo, non mi ricordo se il secondo era proprio il pasticcino a cui avevo dato... Terzo posto il pasticcino, secondo posto per la casereccia, la casereccia che ha preparato un panettone con mango e pesca, mentre il pasticcino aveva preparato un panettone artigianale con mela e cannella. Il secondo allora è l'unico che io ho finito tutto, cioè gli altri li ho assaggiati perché ovviamente poi ne erano tanti, quindi non potevo, ma il secondo che ha vinto, cioè diciamo il secondo classificato è quello che ho finito dal piatto, quindi veramente mi è piaciuto tantissimo. Un'ultima battuta, cosa fa la differenza nella preparazione di un buon panettone artigianale? Solo la lievitazione o qualcos'altro? Assolutamente, sono una combinazione di tante cose. Io dico la prima cosa è l'amore, l'amore che gli artigiani mettono nel fare questi prodotti, che non possiamo trovare in un'industria. Secondo gli ingredienti, cioè tutti, la farina, il burro, le uvette o comunque i prodotti che vengono inseriti all'interno, la lievitazione è chiaro che è importantissima perché si vede un prodotto lievitato bene, che non ti fa neanche il bruciore di stomaco, no? Come si dice, perché il lievito ormai si è consumato, si è sviluppato nelle bolle d'aria che ovviamente ci sono all'interno del panettone. Insomma, esperienza da ripetere. Assolutamente sì e ovviamente è un invito a te a rinvitarmi prossimamente. Facciamo un festival del torrone, non lo so, vedi tu. Al bar Atene e le Dune di Silvi Marina, festival del panettone artigianale con il successo della pizzeria Il Coccodrillo e il suo panettone ai tre cioccolati e caramello con mandarino. Secondo posto per la casereccia di penne con mango e pesca. Terzo posto per la pasticceria Il Pasticcino di Lanciano con il suo panettone con mela e cannella. Ecco, commentiamo il risultato finale con il presidente di giuria, il maestro di cucina Santino Strizzi. Com'è andata? Allora, è andata benissimo perché abbiamo avuto le eccellenze, veramente eccellenze con la E maiuscola dei panettoni d'Abruzzo. Uno potrebbe dire l'Abruzzo che c'entra con i panettoni. I panettoni oramai in Abruzzo sono diventati specializzati. Noi abbiamo dei pasticcieri ma anche abbiamo visto un forno. Anche se non siamo di Milano. Anche se non siamo di Milano stiamo facendo delle cose che a Milano fanno più le cose, diciamolo così, dozzinale. Noi stiamo facendo cose invece artigianali e con i prodotti di qualità che è la base che fa vincere tutto. Tant'è vero che questa sera noi le abbiamo divorati questi panettoni. C'è stato chi ha fatto il tradizionale, chi ha fatto con le sue particolarità del territorio innovativo. Per esempio il mango. Uno potrebbe dire ma il mango è italiano, il mango si fa in Sicilia adesso. Come quando si parlava di riso, che l'Abruzzo era fornitore di riso e lo è tuttora e è tornato. Ma cosa fa la differenza nella preparazione di un buon panettone artigianale? Solo la lievitazione? No, la lievitazione è importantissima, però sono importantissimi gli ingredienti che vanno messi all'interno. Quindi se uno adopra un tipo di farina con un lievito madre dà un risultato, se uno adopra un altro tipo di farina con un altro lievito ne dà un altro. Anche se sono tutte e due ottimi, è logica che la differenza poi si nota e quando si va a giudicare quel punticino in più fa vincere un prodotto. Ma non è che quello che ha fatto secondo, terzo, quarto o decimo non sia valido. Noi questa sera abbiamo assaggiato dei prodotti veramente di alto livello. Ma con il panettone cosa si beve? La bollicina o dell'ottimo vino? Allora con i panettoni è un dolce, quindi ci va per abbinamento un qualcosa di dolce. Noi questa sera abbiamo avuto il piacere di ricevere un omaggio a tutti i giurati di bere un passito abruzzese, anche se fatto con falanchine che è un vitigno più campano. Ma negli ultimi anni la falanchina si vinifica in Abruzzo come si vinifica lo Chardonnay e altri prodotti che una volta venivano da altre zone. Noi abbiamo fatto anche l'abbinamento, abbiamo voluto fare un'evoluzione anche con i vini. Abbiamo avuto i vini di Valforte, il Cerasuolo, il Montepulciano e soprattutto il pecorino Brut che si prestava molto meglio degli altri perché con il dolce l'abbinamento è fatto con il dolce. Dopo il successo nella rassegna politici ai Fornelli, oggi in giuria a Silvi per il Festival del Panettone Artigianale l'assessore di penne Emidio Camplese, intanto che serata ha vissuto? No, indubbiamente una bellissima serata Paolo, una bella serata in allegria passata con amici, con anche qualche amministratore che conoscevo ma soprattutto è stato bello essere dall'altra parte del tavolo. Devo dirti anche che paradossalmente è stato forse anche più difficile essere dall'altra parte perché abbiamo avuto modo di apprezzare dei piatti, dei panettoni davvero prelibati. è stato davvero difficile dover dare un giudizio, ovviamente ha vinto il migliore, sul podio sono andati dei prodotti di qualità, erano tutti prodotti di qualità che rispecchiano anche un po' quel che è l'essenza del territorio poiché io penso che in tavola, così come con i panettoni, si porta anche l'essenza di un territorio. Perché sta prendendo così piede il panettone artigianale, secondo lei, assessore? Beh questa è una bella domanda, secondo me perché ogni territorio vuole dire la sua e ogni territorio ha il diritto di dire la sua, pertanto io penso che in un'era dove dobbiamo unire sempre più il, io dico sempre, si parla di glocale, cioè unire il globale al locale e quindi la sintesi migliore è quella di unire appunto il globale con il locale. Ma mentre era seduto in giuria, se l'è fatta la domanda, cosa fa la differenza nella preparazione di un buon panettone artigianale, una buona tecnica di base, la lievitazione, l'utilizzo di ingredienti freschi e genuini, la fantasia come hanno dimostrato questi professionisti della ristorazione, cosa fa la differenza? Indubbiamente tutto quello che hai detto, la preparazione, la lievitazione, la tecnica, ma devo dire che le materie prime utilizzate sicuramente sono l'ingrediente che poi ti fa fare la differenza e che riesce ad esaltare tutti i sapori che poi vengono di fatto al palato. Insomma, questi dieci elaborati sono stati davvero tutti all'altezza della situazione, nonostante i risultati finali poi abbiano decretato un vincitore ed altri premiati dalla giuria? Assolutamente sì, tutti quanti i partecipanti hanno offerto un prodotto di qualità e dovevano vincere tutti, ma ovviamente il bello della competizione è anche questo. Francesco Maccione, pasticceria Il Pasticcino di Lanciano, premiato in questa rassegna il Festival del Panettone Artigianale, intanto ha la sua prima esperienza, che giudizio e che pensieri porterà a casa? Una rassegna molto bella, ben organizzata, mi piace molto la location dove è stata organizzata e devo ringraziare tutti quanti per i complimenti ricevuti che sicuramente fanno molto piacere e ti ripagano del lavoro fatto, perché comunque per chi fa questo lavoro sa cosa significa alzarsi la mattina presto o comunque lavorare questo prodotto per farlo uscire nel modo migliore, per farlo arrivare nelle case a Natale. Ma quali sono i segreti per far uscire bene, nel migliore dei modi, un panettone artigianale? Sicuramente gli ingredienti di alta qualità, un burro molto buono e profumato, tanta passione, pazienza perché ci vuole molta di quella e c'è tanto lavoro da fare. Con Katia Giancola, titolare del Caffè Atene Le Dune di Silvi Marina e con il pluricampione internazionale di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone, commentiamo l'edizione 2022 del Festival del Panettone Artigianale, vinto dalla pizzeria Il Coccodrillo di Rocca San Giovanni, da ex vincitrice, da detentrice del titolo. Che gara è stata? Come ha seguito la manifestazione? dal tavolo della giuria. Katia Giancola. Grazie. La manifestazione è stata bellissima, è sempre un piacere per me poter condividere esperienze con altri pasticceri come me. Questa sera vi ho avuti ospiti e per me è stato un grande onore, perché è bello vedere tanti professionisti che dedicano le loro giornate, così come noi, nel fare questi prodotti artigianali che ci vogliono tanta cura, tante materie prime di altissima qualità e specialmente tante ore di lavoro. In un momento come questo, di problematiche anche sociali, a livello lavorativo, vedere anche tutta questa passione e attenzione a fare anche questi concorsi è una cosa bellissima. Cosa ha avuto di più il vincitore rispetto agli altri? Perché abbiamo avuto modo di apprezzare panettoni artigianali classici, tradizionali, ma anche innovativi. Ad esempio il panettone con la mela zitella, con il mango, con tanti prodotti davvero che non sono soliti abbinare i panettoni. È vero, questa sera abbiamo avuto davvero tanti panettoni molto particolari, con abbinamenti altrettanto particolari e devo dire che anche la scelta è stata difficilissima perché erano tutti davvero molto buoni. In particolare quello del vincitore aveva forse quell'aroma, quel connubio di sapori particolare che magari l'ha reso vincente. Lei se lo chiede, Katia Giancola, da professionista del settore cosa fa la differenza nella preparazione di un buon panettone artigianale? Guarda, sicuramente l'amore e la passione che ci si mette quando lo si prepara. Io penso che questo fa la differenza perché magari puoi anche avere prodotti di alta qualità ma poi quando li maneggi, quando li manipoli non metti l'amore, secondo me questo fa la differenza. Che belle parole. Andrea Silvestrone, sportivo per Antonomasia. oggi impegnato in una giuria davvero particolare come quella del panettone artigianale. Come si è trovato? Mi sono trovato benissimo e sottoscrivo ogni parola detta dalla nuova amica preziosa al mio fianco perché in questi prodotti artigianali ho trovato veramente l'amore, la passione, la dedizione l'anteporre, l'amore per ciò che si fa a ciò che si vuole raggiungere. Cioè l'amore prima del profitto. Nel prodotto artigianale c'è una storia che si racconta una famiglia che si tramanda un qualcosa che si porta di sé in quel prodotto come un po' dico io porto nei campi da tennis quello che sono fuori e quindi hanno trasmesso cosa c'era di in più nel prodotto che ha vinto nel panettone che ha vinto? Un'emozione in più non un ingrediente è un'emozione in più Hai per caso la passione per i fornelli? Iscriviti gratuitamente al Campionato della Cucina per Casalinghe Chiama ora il 337 91 71 11 o visita il sito campionatoitalianodellacucina.com Ti divertirai cucinando!